E buonasera E buonasera a tutti ragazzi Bentornati sul nostro canale con un nuovo video Oggi proviamo in My Selection 2024 Quindi in English per Gio Bastiani My Selection 244 1224 Of course Quindi Dani, cosa sono questi My Selection? E a me lo chiedi E tu non lo sai, quindi chiedimelo a me E che sono? Tre panini che escono ogni anno E sono classificati in migliori del Mac Da Gio Bastiani Che è tra l'altro un partner del McDonald's Avevo già provato lo specchio d'Asiago Della My Selection del 2023 Addirittura Quanti anni fa parlavo? L'anno scorso Però non avevo fatto il video Quindi quest'anno andremo a fare il video Di tutti e tre panini Ma quali panini ci sono quest'anno? Che spavento My Selection BBQ Poi My Selection Pecorino Pera Sì, per il pecorino Per il pecorino E l'altro Yuzu E parmigiano Quindi non c'è nient'altro da dire Andiamo a prendere questi panini E vediamo come sono Perché sono veramente curioso Speriamo bene Beh, quello te lo mangi tu Quindi non c'è problema Sì, prendiamo una testa Direte Sono tre E siamo in due E no, siamo in tre Perché c'è anche il cameraman Che oggi però in veste di nulla facente È venuta sola ad accompagnarci Non fa il cameraman Ci vediamo dopo Con i tre panini My Selection Eccoci qua ragazzi Abbiamo preso i tre menu Adesso li apriamo Perché dal packaging Sembra interessante Odore un po' strano Effettivamente Però il packaging è così My Selection Creati da McDonald's Selezionati da Joe Bastianici Guardate che bello Quindi abbiamo ognuno il proprio panino Io coloco la pera Tu quello col BB Chi vuoi il cameraman Quello con cos'era? Boh, quell'altro Comunque Siamo stati a prendere Cavolo, ho potuto provare la lemon soda Invece ha preso la Pepsi Zero Che proverà E anche io proverò Non l'ho mai assaggiata Non l'ho assaggiata Iniziamo Mamma mia, ho paura io Con questo Il più strano probabilmente Perché con la pera La pera non è che si sente Ma quel tocco La pera è pera Ma non è pera dolce Particolare Assaggiamo il mio Il BBQ Questo è buono Assaggiamo il BBQ Il migliore È buono Molto buono Pensavo peggio Sai la salsa? Sì, anche io Che c'era scritta Aceto, robe strane Buono soprattutto Anche il bacon croccante Vero? Finalmente Cioè io non ho mai assaggiato Il bacon così croccante Al McDonald's Picca 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 Mamma mia come picca Fidati, non è male Non puoi dire che non ti piace Dai Non mi piace Mamma mia Ma cosa dici? Di qua il cameraman mi ha dato Da assaggiare il suo A guardarlo così Sembra il più normale Più normale Ma è anche forse Il più buono Anche quello del cameraman Ha il pollo fritto Quindi un po' più croccante Assaggiamo sta Pepsi Zero zuccheri Ci è un bel messo? Sì, è uguale Non trovo differenza Beve tantissimo E costano 8,50 euro all'uno Il menù 11 Cos'era? Sì, il menù 11 Però non prendete il menù Se volete provare solo il panino Prendete solo il panino Io voglio prendere anche un gelatino Strano Prenderei un sandi ai frutti di bosco Che non abbiamo mai provato Abbiamo provato il sandi al caffè Nel video in cui abbiamo fatto la challenge Della ruota della fortuna Che ha deciso la ruota della fortuna Madonna sti capelli Quindi andatevelo a vedere il video Qua nel Aicchia Ma sei scemo Nel naso di Danny E oggi invece proveremo il sandalo Al frutto di bosco Ci vediamo dopo il sandalo Guardate qua Comunque Danny Mica possiamo mangiare solo questo Eh no Assieme al sandi E io mangio questo Che abbiamo preso prima Assieme alle bevande Comunque ragazzi Partirò di nuovo da solo Anche quest'anno E farò il video Quindi aspettate con trepidio Questo momento Dai Franci Allora Allora mescoliamo ancora un po' E poi arriva il momento dell'assaggio Dopo Gio Bastianici Arriva Carlo Cracco Ma cosa dici? Molto buono Oh Assaggiamo anche questo Buono Io sono già stanca Andiamo alle conclusioni finali BBQ Il tuo 8 In generale anche io Un 8 Tranquillamente Glielo do Il mio Il tuo 3 Ma no dai Non era troppo Immangibile Ma dai Ma non è vero Con quella pera Ma solo Se non sapevi che c'era la pera Secondo me non capivi Per me è un 7 Mentre quello Del cameraman Tu non l'hai assaggiato Io gli do un bel 7 e mezzo Anche 8 No anche 8 Anche 8 Era semplice ma Ma buono Passiamo ai dolcetti Sandì Non mi è piaciuto tanto 7 dai Un 7 glielo do E il Tortino 9 Spero che il video vi sia piaciuto E che vi sia piaciuta la nostra recensione Dei My Selection 2024 Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un like Ci vediamo E un commento Eh sì Mi raccomando Non l'hai detto Franci Eh Dio santo Dani Sono vecchio io Io mi affido a te E ci vediamo A un prossimo video Ciao 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 ciao